Cantautore e scrittore dell'Irpinia, della sua tradizione popolare, Vinicio Capossela incontra gli studenti del Conservatorio Cimarosa di Avellino, uno degli artisti più eclettici del panorama musicale europeo a confronto con i musicisti di domani. La musica è sempre un dono che va coltivato e conservato, forse per questo esistono i conservatori, per conservare questo dono e io sono stato molto felice di apprendere della qualità e della grande offerta culturale che ha il Conservatorio Cimarosa. È stata l'occasione per parlare degli ultimi progetti del cantautore, come innanzitutto lo Sponsfest, il festival di musica popolare che da quattro anni si tiene ad agosto tra Calitri e Andretta, del libro Il Paese dei Coppoloni e dell'ultimo lavoro discografico, Canzoni della Cupa, tutti lavori che raccontano di una terra spesso dimenticata. Una terra dura, una terra che ha conosciuto la povertà ma anche la disuguaglianza, però anche da cui sono usciti grandi pensatori, persone di grande carattere. Nell'Università della Musica Irpina Capossela ha raccontato la sua terra, l'Alta Irpinia, che descrive come un patrimonio da tutelare, esattamente come il Conservatorio Cimarosa, e come la Ferrovia Rocchetta Sant'Antonio, la cui riapertura, seppur parziale, è anche merito suo. La Ferrovia Avellino Rocchetta è un grande patrimonio intanto storico, paesaggistico ed è un peccato che non sia utilizzata e quindi speriamo di avere dato un segnale nel fatto che sia stata riaperta anche solo a scopo turistico, credo che sia una bellissima cosa.